C'è anche la Saccenze Viviana Rizzuto, promotrice del Museo dei Cinque Sensi di tutte le attività connesse di promozione culturale e turistica del territorio di Sciacca, tra le quattro imprenditrici italiane che hanno partecipato con successo al bando Cultura Crea, promosso dal Ministero dell'Economia. Un bando che è tuttora aperto e sono ancora disponibili 50 milioni di euro di incentivo coordinati da Invitali a sostegno della nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore turistico-culturale. A renderlo noto, la stessa Agenzia per lo Sviluppo, controllata al 100% dal Ministero dell'Economia, che ha tracciato un bilancio di questo strumento e che ha già finanziato oltre a 350 nuove imprese che appuntano a valorizzare le risorse culturali delle cinque regioni del Sud Italia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Promosso dal Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, Cultura Crea offre contributi a fondo perduto e mutui agevolati fino al 40% della spesa, 45% per le donne e i giovani, finalizzati a start-up, imprese consolidate, imprese sociali o reti di impresa. Come detto, tra le 350 iniziative ce ne sono quattro che vedono come protagoniste giovani imprenditrici che vengono ricordate nella nota da Invitalia, Caterina Sant'Arcangelo che in provincia di Matera sfrutta la tecnologia dei droni per fornire servizi di valorizzazione del territorio lucano, Emilia Petruccelli che a Napoli punta sul design d'autore per narrare il patrimonio culturale e il contesto urbano, Stefania Rifiordi che in tutta Italia organizza anteprime cinematografiche per gli emarginati dalla società e, come detto, Viviana Rizzuto, chi a sciacca scrive Invitalia. Ha realizzato un vero e proprio museo dei cinque sensi all'aperto. Invitalia ricorda inoltre tra le caratteristiche di Cultura Crea che è disponibile un contributo per il capitale circolante a pari al 50% delle spese di investimento, che sono agevolabili le opere murarie nella misura del 15% del programma complessivamente ammesso, che l'impresa può fare riferimento a uno o più attrattori culturali che siano collegati all'attività svolta e non solo al territorio in cui si opera e che è disponibile, su richiesta, anche un servizio di tutoring per lo start-up ed impresa fino ad un valore massimo di 10.000 euro.